Puoi rispondere sempre di no a tua mamma? No mamma, cioè sì. Ma che cosa, povera ragazza? È sfinita. Albert, le hai fatto fare merenda? Buongiorno, sto lavorando. Anzi, già che ci sei, sorridi. Vergognati, non sei niente di me. Sono un noto e ben pagato fotoreporto. Sei in vacanza? Per questo io sono sempre in vacanza. No, ferma. E ora muovi, ti fai quello che ti pare. Facciamo un servizio, lo chiamiamo... Ferma. Una donna di nome Libertà. Mi chiamo Mira. Mira non mi piace. È un nome lezioso, da principessa o da figlia della cuoca. No, da fumetto. Mira, io ti voglio. Non posso, amo Stefano. Ma io sono tuo padre. Ferma. Un'altra, eh? 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 Grazie.